Buon pranzo a tutti e buon fine settimana. Ciao Marta, Marta, ciao. Allora, dobbiamo assaggiare. Oggi noi, pranzo veloce, ho fatto come contorno i peperoni in precisicia d'aria, arrostiti e quindi ho fatto salioli al limone. Ah, quei peperoni, piatto preferito di Marta sui peperoni. Beh, assaggi prima un peperoni. Come contorno ho fatto i peperoni e poi spinacini, anellini di cipolla, cose così. Sì, poi è arrivato il momento però di fare l'assaggio della crema di melanzane che ho fatto ieri. Eh, vi ricordate che ho fatto il video dove vi ho chiesto il consiglio? Ok. Ho fatto la bruschetta con crema di melanzane e pomodori secchi. Mio marito l'ha già assaggiata. Fabio com'è? Dieci. Dieci, ha detto mio marito. Però secondo me un po' di sale ci vuole o no? No. No, perché giustamente abbinato con i pomodori secchi che sono già saporiti. Però io l'ho assaggiato assoluto, mi pare che mancava un po' di sale. Comunque ha venuto abbastanza buono, raga. Vai Marco, assaggi. La hummata. Comunque, vediamo il connubio crema di melanzane e pomodori secchi. Mmm, buono. Mmm, è mamma mia. Fatemi la bruschettina crema di melanzane e pomodori secchi. Una goduria. Buon appetito, rivederci. Buon appetito. Grazie. Grazie a tutti.